Il pubblico può vedere, anche i nostri telespettatori, c'è una novità. Notate un cambiamento nel gruppo dei Mattia Bazar. Antonella Ruggero non c'è più e il suo posto l'ha preso la signorina Laura Valente. Una bella eredità, perché Antonella è molto brava. Come ti senti? Mi sento innanzitutto molto contenta di conoscere finalmente loro e mi sento molto contenta di suonare con questi bravissimi professionisti. Hai ragione. Tanti auguri da parte mia e da parte di tutto il pubblico di Borogna. Ragazzi, un bel applauso su Vincenzo Spantinato, mia vicina. Sono tornata a Mara. Con Vincenzo Spantinato. Volo anch'io. Mi raccomando, volate bene anche stasera. Sono fuori. Cercavo solo di pensare al mare E all'orizzonte mi inventavo sempre un'isola Dove approdare Perché c'è un mondo meno materiale Dove i pensieri più leggeri sono altri Sopra le nuvole Non so quale sfida, quanto ci vorrà Per passare come un razzo in mezzo alla realtà E non tornare indietro mai 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 di sera torno ancora a tu e pensare al mare tra l'onda e un'altra c'è silenzio ma di non tu vai non ho paura non so cosa cambia, cosa resterà se si cresce con il tempo, con la volontà o si rimane uguali ma se insieme a te guardo su e ancora su fino all'estremità poi bocchio venite dalla c'è e non ho anch'io per ritornare a vincere e non ho anch'io 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 bravissimi come sempre